Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo video. Vabbè, sono ancora in pigiama, oggi ho fatto dei lavori molto importanti a studio, vedrete molto presto, ma oggi siamo qua per un nuovo Squad Builder. Come al solito, prima di iniziare, vi invito a scrivermi nei commenti quale squadra, con quale budget, di quali campionati, su che tema o con quali giocatori vorreste vedere un nuovo episodio, un nuovo Squad Builder. Scrivetemelo nei commenti, così che almeno la prossima volta prendo spunto i vostri commenti, perché l'ho fatto anche questa volta. Questa volta mi sono basato su molte richieste, su una squadra con Serie A e Premier League, quindi un'ibrida Serie A-Premier League. Mi sono basato questa volta su 100.000 di budget, che era quello medio, un po' più richiesto, anche perché comunque è un po' il budget che più o meno tutti, grazie ai FIFA Points dell'Ultimate, o comunque col primo periodo di gioco, sono riusciti a ottenere. Detto ciò, se non sapete come si fanno le squadre su questo gioco, vi invito a vedervi il video su come funziona l'intesa. È uscito ieri, non è andato in feed, quindi potreste esservelo persi. Se alcuni di voi non sanno ancora come funziona o hanno dei dubbi di qualunque genere, cliccate sulla i che il video è molto preciso. Quindi niente, tralasciando ciò, adesso ci spostiamo a vedere la squadretta. Partiamo dal portiere che è a Kepa. Il portiere, vabbè, diciamo che è temporaneo, perché comunque ci serve per l'intesa, non è niente di che, potrebbe paperarvi un pochino. Diciamo che il portiere per intesa è lui, il portiere che personalmente utilizzerei è quest'altro qui. Allora, a me piace molto, è uno che mi piace un po' di più, portatevelo in panca, poi vi spiego perché. Abbiamo Di Lorenzo come terzio destro, l'abbiamo già visto nella squadra 50k, lo riconfermo per comunque il fatto che è un giocatore completo e bilanciato. Difensivamente è una carta che dà la sua mano, comunque se la cava bene e tutto quanto, fisicamente pure riesce, secondo me, a dare un valore aggiunto alla nostra rosa. Così come in termini di velocità, 85-85 per il primo periodo di gioco è assolutamente buono e passaggi dribbling non è niente di eccezionale, in fase offensiva magari non è quello che ti fa la differenza allucinante, però nel complesso a me piace. Poi abbiamo Renan Lodi, una carta che difensivamente e fisicamente lascia un pochino più desiderare magari rispetto al buon Di Lorenzo. In questo caso abbiamo un giocatore che in fase offensiva dà una maggior mano, 4 skill, comunque passaggi così così, buon dribbling, è molto agile, si muove bene anche grazie al suo body type. La corsa anche qua non è malissimo, sicuramente dovrete dargli o ancora, ma non credo migliorare di troppo il fisico, o ombra, io vi direi ancora personalmente. E questa carta qui, comunque anche qua, parliamo di un terzino da periodo iniziale del gioco. Poi abbiamo Bremer, che è uno dei difensori che mi è piaciuto di più in questa fase, dove si gioca magari con carte che non costano cifre allucinanti. Difensivamente è molto preciso, puntuale, al posto giusto, comunque è anche a volte automatico, fisicamente riesce a spostare quasi chiunque, di testa non è malissimo, è alto, ha una buona corsa, una buona agilità, delle movenze non male. Carta che ha ricevuto un upgrade importante quest'anno anche in termini di come rende in gioco, per cui super ultra consigliato. Poi abbiamo Joe Gomez, differenza di Bremer, lui è un buggato da mille anni, quest'anno difensivamente non è impeccabile, neanche fisicamente. Diciamo che difensivamente e fisicamente fa il suo, ha una buona corsa, è comunque abbastanza equilibrato, niente di allucinante, molto più manuale di Bremer. Però in coppia, secondo me, riescono a tenere bene la difesa. Come esterno, riconfermo a Lozano che quest'anno mi piace, onestamente ovviamente il prezzo è un po' alto per colpa della versione IF. Una carta che a me è piaciuta molto per via soprattutto delle sue movenze, l'agilità, il dribbling, comunque la capacità di rigirarsi in un fazzoletto. Molto più agile dell'anno scorso, dove lo trovavo un pochino, un po' più, diciamo, macchinoso per via un po' dell'equilibrio. Quest'anno mi sembra rendere molto meglio, ha un'ottia velocità, tiro e passaggio un po' a me, però buonissima velocità e dribbling se la cava. Insomma, da questo punto si sta tanta roba. Come altro esterno, ha messo Foden, ma non giocherà come esterno, lui è il nostro trequartista, perché è uno dei pochi giocatori inizio gioco che ha un buon passaggio, 85 di visione con 85 di passaggio corto e 81 di passaggio lungo. A livello di dribbling è un giocatore che qua se la cava alla grandissima, lui si gira veramente in un annosecondo in un fazzoletto. Poi ha l'indie boy type che lo rende ancora più aggiene e movenze e l'accelerazione lo fa sembrare ultra mega veloce. Nel tiro niente di allucinante, bravo a inserirsi, fa i suoi gol, cioè il minimo indispensabile, però diciamo che nel complesso è una carta che come trequartista è in grado in questo momento del gioco di fare veramente la differenza. McKennie confermato come box to box, l'avevamo visto in tutte le squadre che finora ha proposto, è una carta molto completa che costa veramente poco perché comunque corre, ha aiuto in difesa, è fisico, è forzuto, fisicamente forzuto. Poi ha un buon passaggio, non sa tenere una palla per i piedi, cioè comunque si inserisce, è una carta che dà valore sia in fase offensiva che in fase difensiva, opposto Zaccaria che in fase offensiva il passaggio è un po' così così e le movenze sono un po' più pesanti, però in fase difensiva dà una bella mano anche grazie alla sua fisicità e grazie alla sua altezza, con anche un'ottima composure reaction che tutto assieme lo rende un giocatore che reagisce rapidamente alle scelte che deve prendere e difensivamente riesce comunque a recuperare la maggior parte delle volte il pallone senza grandi problemi. Poi a livello di velocità pure comunque un'ottima corsa e dà quella massa a centrocampo che è molto importante. Rashford posizionato come punta, dobbiamo mettere ovviamente il suo ruolo secondario punta, Rashford non giocherà come punta perché giocheremo a punta unica ma vi dà comunque l'opzione di poter selezionare questa cosa se volete cambiare tipo di rosa, veloce lo è, non ha una superaccelerazione come altri anni, ha un tiro decente, passaggi così così e un buon dribbling, non è una carta allucinante, è un buon esterno, può fare l'attaccante, insomma dà dell'alternativa a 5 stelle skill, sicuramente gli serve o un motore o qualcosa del genere perché qua il dribbling è da migliorare. Poi Gabriel Jesus mi ha stupito, quest'anno mi piace particolarmente, non so dirvi bene il perché e il per come, è un gran finalizzatore quando comunque bisogna tirare, lui segna praticamente sempre in particolare col destro ma anche qualcosina col mancino, quindi già da questo punto di vista insomma con l'83 finalizzazione potevo aspettarmi un po' di meno, così come a livello di velocità ha una buona velocità e corre molto più di quello che sembra probabilmente perché miscelando un po' la succelerazione con l'agilità, il body type sembra veramente molto più veloce di quello che c'è scritto, poi a livello di dribbling ha delle movenze veramente fulmine perché lui è un altro che si gira veramente facilmente, molto rapidamente, davvero imprevedibile grazie alle sue movenze, ha 4 di skill comunque quindi un minimo riesce a farlo, non è un 5 per carità però per iniziare secondo me è una signor punta. La squadra l'ho messa in questo modo per stare in intesa, ovviamente ho messo Kepa come vi dicevo per l'intesa, se non volete Kepa ma preferite Zaccaria a 2 mettete semplicemente in campo Areola che ora non mi sta apparendo, avrete Areola e Zaccaria entrambi a 2 perché ho preferito mettere come alleatore Simone in Zaghi, che è italiano che dà intesa di Lorenzo in Serie A, se vogliamo dare intesa solamente alla Serie A potremmo comunque farlo, dovremmo sicuramente levare in Zaghi, se mettiamo Areola e cerchiamo di migliorare la Premier potrebbe comunque bastare, quindi pensiamo a un manager della Premier, chi è che allena in Premier League? Klopp per esempio, se mettiamo Klopp in Serie A abbiamo un cavolo, un cavolo purtroppo, no perché si mi ha messo Klopp in Serie A, giustamente ci serve uno della Premier, possiamo potenziare, no infatti no, no niente, è tua cavolata, perché non ci serve la Serie A quindi non cambia molto, potremmo mettere Zaccaria in intesa, se conoscete un alleatore svizzero, se conoscete un alleatore svizzero, che io non ne conosco, potreste mettere un alleatore svizzero e mettete Serie A come campionato e vi dà intesa di Lorenzo, Lozano e Zaccaria, Areola vi gioca a 2 su 3, però diciamo che è sicuramente meglio di Kepa al massimo, quindi sicuramente trovatevi un alleatore che dà intesa a Zaccaria, Lozano e di Lorenzo, quindi Serie A Svizzero, giocherei con il 4-2-3-1, poi una volta che siamo in game, quindi questa squadra tanto costa un attimino più di 100k in questo momento che i prezzi sono saliti, quando l'avevo fatta non costava così, e giocherei con Lozano a destra e Rashford a sinistra o viceversa, Fode, interquartista, Jesus davanti, Meccani, Zaccaria, centrocampo, me la giocherei in questo modo, se volete giocare diversamente a quel punto leverei Fode, metterei Chiesa e giocherei con Jesus e Rashford davanti, se volete un'alternativa, insomma, quindi niente, fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate, noi ci vediamo nel prossimo video e niente, bella, spero vi sia piaciuto questo video e fatemi sapere quello che vorreste vedere.